Fratelli e sorelle bianconere, buongiorno, buona giornata a tutti. Vi volevo dare un aggiornamento riguardo la partita Fiorentina-Juventus, un aggiornamento su un calciatore, su Federico Chiesa ovviamente. In settimana si era parlato che molto probabilmente avrebbe saltato solamente la partita con il Parma e sarebbe rientrato con la Fiorentina. Purtroppo devo comunicarvi che così non è perché ha ancora problemi Federico Chiesa e quindi non sarà, purtroppo perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo proprio contro la sua ex squadra, non sarà disponibile contro la Fiorentina, assieme a lui anche Merit Demiral, Demiral ormai ragazzi è un calciatore che sembra proiettato sul viale degli infortuni. D'altronde quando uno si rompe il crociato il problema è che dopo ha sempre, come posso dire, ha sempre problemi, anche muscolari, tutte queste cose qua, sempre delle ricadute. Ecco perché io non comprerei assolutamente Arcadius Milik, proprio per questo motivo qua, perché lui essendosi rotto, se essendosi rotto tutte e due i crociati può sempre avere problemi, ha sempre problemi comunque. Quindi ancora problemi per Federico Chiesa che non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di domani. Mi raccomando non dimenticatevi ragazzi domani che io sono in live, live reaction di Fiorentina Juventus domani alle ore 15 e poi a fine partita se ci sarà qualcuno che vorrà entrare per discutere un po' del match e di quello che si sarà visto sarà ben accetto senza problemi. Detto questo ragazzi solo per il momento io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. E sempre Forza Juve!